Ciao a tutti e bentornati, come ci aspettavamo questa è stata una puntata di transizione. Rick ha finalmente ritrovato la gioia di vivere, è più forte di lui, la perdita dell'occhio del figlio e la morte di Jesse l'hanno messo di buon umore. O forse si è accorto che a lui personalmente non succede mai nulla di male e nell'euforia si fa pure Michonne. Cazzo sono il protagonista, non posso morire. Scherzi a parte ci valeva una puntata leggera e a tratti persino divertente, se non fosse che hanno riproposto il lato da adolescente ribelle di Daryl che onestamente è un po' ridicolo. E comunque è stato simpatico vedere i due amiconi spassarsela come ragazzini inseguendo il buon Gesù da bravi gay ingenui. E a proposito di Jesus ci hanno già fatto capire che si tratta di uno dei nostri eroi, anzi un supereroe visto che è un ladro che conosce le arti marziali e che in pochi secondi riesce a slegarsi e inspiegabilmente volare in cima al camion. Non ho ancora capito con quale logica Rick e Daryl si mettano ad inseguirlo a piedi considerato che lui è motorizzato, questa sì che è fede. In ogni caso immagino che Jesus abbia un gruppo e un accampamento, anzi magari è un sottoposto di Negan, magari è sufficientemente furbo e scaltro da riuscire a rubare senza uccidere e riesce ad ingraziarselo senza commettere brutalità. E magari nell'ultima scena di questo episodio vuole appunto chiedere a Rick di aiutarlo per fermare il suddetto cattivone misterioso. E probabilmente rivedremo molto presto Dwight e compagna. Altra ottima novità è che i Nid e Spencer, almeno per il momento, dovrebbero aver finito di rompere le palle e immagino che anche la prossima puntata sarà una puntata di transizione e probabilmente daranno spazio a Ite e alle coppiette. Aspettando qualcosa di più succoso ci rivediamo a mercoledì prossimo con il nuovo video su Walking Dead. Ciao! Ringrazio ancora una volta il gruppo Facebook Walking Dead Fans Mania Ita. Ringrazio ancora una volta il gruppo Facebook